Sequestro preventivo di altri due forni di fusione all'interno della TCA di Castelluccio e di Capolona, l'azienda di circa 100 dipendenti specializzata nel recupero di metalli preziosi dove martedì della scorsa settimana un'esplosione ha provocato il ferimento in maniera grave di due operai. Lo ha disposto il pubblico ministero Andrea Claudiani che indaga per lesioni colpose dopo il ritorno di fiamma che ha investito in pieno un 34enne e un 41enne a retini che stavano lavorando attorno al forno esploso. Attualmente i due operai sono ricoverati al centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa, uno in condizioni molto grave. I due forni sequestrati hanno caratteristiche di costruzione identiche a quello in cui si è verificato l'incidente e sono stati sequestrati per evitare che possano mettere a rischio l'incolumità dei lavoratori fino a che Giovanni Romanini, consulente tecnico nominato dalla pubblica ministero, non avrà terminato la sua perizia che dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. Il consulente cercherà di accertare quali sono state le cause dello scoppio.